Vi serve un cetriolo che tagliamo a cubetti, patata bollita pure tagliamo a cubetti. Prendiamo mortadella, io prima la bollita così è più saporita e pure tagliamo a cubetti. Poi uova di gallina pure tagliamo a cubetti. Prendiamo erba cipollina, fresca e buona, e tagliamo. Poi prendiamo yogurt greco, due confezioni e aggiungiamo. Per concludere vi servirà ancora annetto, una erba aromatica, polivere di acido di limone, l'acqua gassata, sale, aggiungiamo l'acqua, sale e polvere di limone e mischiamo tutto bene, 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 bene. L'acqua deve essere fredda, quasi ghiacciata, perché la zuppa è fredda e si mangia fredda. Mischiamo bene 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 e voilà, il nostro piatto è pronto. Buon appetito!